Questo video è sponsorizzato da Card Raider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Eccoci qui cari naviganti per una nuova rubrica dedicata all'EDH un po' particolare. Questa volta proviamo ad affrontare il gioco in una maniera un po' diversa. Non vi voglio parlare di tech o di liste o di come giocare un determinato generale, ma voglio farvi capire soprattutto per i neofiti che conoscono poco il formato multiplayer, poco il formato EDH, qualche trucchetto, qualche approccio filosofico appunto su come giocare. Perché spesso si perde un po' la cognizione, la metrica di quello che è un gioco con almeno quattro giocatori rispetto a quello che è la classica sfida 1v1 dove appunto abbiamo a che fare con un generale che è sempre comunque visibile a tutti per tutti i quattro giocatori e quindi andarsi a creare quella che in gergo viene un po' definita diventare l'arcinemico di tutti i giocatori. Ma adesso entro un pochettino nel dettaglio e cerco di spiegarvi cosa voglio intendere con questa puntata e quello che potrebbe essere poi il futuro anche di questo appuntamento che cerca un po' di spiegarvi alcune cose diciamo così fuori dai canoni, oltre alla regola zero diciamo così, per aiutarvi a giocare meglio e soprattutto non risultare frustrati, soprattutto quando diventate l'arcinemico. Ma andiamo un pochino con ordine. Arcinemi è un formato in realtà dell'EDH, è una variante dell'EDH che definisce un modo di giocare in cui un avversario è nemico di tutti gli altri. Chiaramente il gioco è strutturato con degli schemi appositi, con un power level bilanciato, c'è una versione arcinemi con Nicol Bolas tanto per intenderci, dove appunto tre giocatori interpretano tre planeswalker e cercano di sconfiggere Nicol Bolas che ovviamente ha un power level e una serie di caratteristiche peculiari. In realtà nel gioco di Magic e nel D.H. avviene lo stesso l'arcinemi anche con le partite normali. Perché questo? Perché quando si arriva al tavolo si scelgono delle strategie o dei comandanti che non piacciono agli altri, sono molto fastidiosi, portano agli altri, ai giocatori ad accanirsi verso di voi, se avete fatto questa scelta, e quindi magari trovarli al partito o perdere automaticamente la partita o in pochissimi turni perché tutti vanno addosso a voi. Perché ricordiamoci, non siamo nell'1v1. Nell'1v1 io cerco di avere un mazzo altamente performante, non vedono gli avversari cosa gioco finché non lo gioco, non c'è il comandante esposto, ho le mie 60 carte, le mie 7 carte in mano a meno di scartini ben nascoste, per cui almeno G1 l'avversario si ritroverà qualcuno di cui non sa assolutamente nulla. Col comandante invece io fornisco agli avversari delle informazioni e queste informazioni possono ritorcersi contro di me, soprattutto se faccio delle scelte verso tipologie di giocate, tipologie di meccaniche che infastidiscono molto il resto del party. Questo indipendentemente dalla power level, poi entreremo anche nel merito del power level, ma tendenzialmente questo vale sia per i tavoli casual, forse addirittura di più per i tavoli casual che per quelle dall'alto potenziale, dove magari tutti si aspettano comandanti molto forti, meccaniche molto stringenti, ma anche in questo caso se facciamo determinate scelte di design per il nostro mazzo rischiamo di finire nel tritacarne, venire bersagliati costantemente da tutti e quindi perdere, perché giocare contro tre avversari anche settati al meglio, anche in determinati contesti ci può portare a perdere più che a vincere. Quindi anche se la strategia può essere risultare vincente agli occhi di un neofita che magari prova a costruire un mazzo che ama magari sotto l'esperienza dell'1v1, la passione a determinati colori o meccaniche, si ritrova poi a perdere perché appena mette il giocatore, il comandante, sul tavolo e le sue 100 carte pesca tutti lo guardano male e cominciano a bersagliarlo. Cominciamo con alcuni esempi, peraltro esempi di vita personale. Io ho un po' questa tendenza a fare l'arci nemico del tavolo, ho un po' la voglia di giocare dei mazzi abbastanza aggressivi e con delle strategie di un certo tipo, ma ho capito col tempo che essere così sfacciati spesso non paga, anzi, a volte è anche deleterio. Cominciamo con quella che forse è una delle meccaniche più odiate all'interno delle DH, che è quello del discard massivo, del discard a tutto il tavolo, magari anche a noi stessi, con comandanti, come ho preso qui un esempio, come T.D. Bones. T.D. Bones è un comandante che punta non solo a valorizzare gli effetti di discard, ma a vincere attraverso il discard perché ha un'abilità che con 6 mana fa 10 danni a ogni opponente che non ha carte in mano. Quindi noi saremo incentivati enormemente a far scartare tutte le carte ai nostri avversari e questo cosa comporterà? Che i nostri avversari non giocano, che riusciranno a sviluppare il loro gioco perché non avranno carte in mano, perché noi costantemente gliele toglieremo. Questo ovviamente, soprattutto nei periodi di turni, non è facile perché tutti partono da 7 carte, alcuni avranno anche dei motori per pescare nuove carte, quindi il solo fatto che mettiamo T.D. Bones nella zona di comando ci porterà ad essere odiati da tutti. Quindi questo tipo di scelte, soprattutto comandanti che hanno marcatamente evidenti meccaniche o approcci che fanno capire chiaramente che si va verso il discard, ci porterà ad essere odiati e quindi attaccati subito. Altra meccanica che non piace e che spesso viene anche utilizzata in modo sottile perché alcune carte sinergizzano con altre e creano degli effetti anche parecchio fastidiosi, è quella delle ruote o meglio di carte che fanno scartare tutte le nostre carte dalla mano e ripescare nuove carte. Qui non abbiamo un effetto di punizione dal punto di vista del mancanza di scelte, opzioni o carte, ma ci avvantaggiamo del fatto che tutti pescano molto e scartano molto. Qui presento Necusar e Xeris che si avvantaggiano del fatto che se gli avversari pescano infiacciamo danni o creiamo token, quindi in qualche modo cerchiamo di ottenere maggiori vantaggi rispetto a tutti quanti per questi effetti ruota, ma è chiaro che questo scombina il gioco degli altri. Partono tutti con delle mani magari buone perché fanno la selezione, ricordiamoci in commander è anche accettato un primo shuffle della mano a costo zero senza mancati downsize, quindi è chiaro che questa cosa di fronte ad un effetto ruota magari fatto in fretta, subito dopo l'ingresso del comandante, porta tutti a ritrovarsi con carte diverse, magari carte non ottimali e questo innervosisce tutti. Quindi è chiaro che chi prova a giocare questi mazzi e magari si ritrova avversari con strategie nella zona di comando di costruzione o che banalmente provano a cercarsi delle carte e tutorare qualcosa, odieranno sicuramente questi comandanti perché sanno che prima o poi arriverà qualcosa per scombinare gli piani e quindi dagli al giocatore che ha portato questa meccanica così evidente. Qui la cosa, ripeto, è un po' più sottile perché alcuni giocatori usano in parte queste carte, le carte tipiche, le ruote, Will of Fortune, intanto per far citare l'esempio più blasonato, per scopi che sono semplicemente a riempirsi la mano, non sono settati in modo così sfacciato per questo tipo di discorso. Sono carte usate, ma usarle al momento opportuno piuttosto che dire guardate ragazzi che prima o poi vi arriva una ruota in faccia, è ben diverso per la psicologia del gioco e soprattutto per la sensazione che avranno gli avversari verso di voi, perché un conto è ritrovarsi ogni tanto qualcosa del genere fastidioso, certo, ma non dirompente sempre, magari anche vantaggioso, alcuni magari si svuota la mano e si ritrova la mano di nuovo piena, quindi può essere anche un vantaggio per qualcuno contro chi invece beneficia fortemente di questo tipo di discorso e soprattutto punta a farlo spesso. Altro tipo di meccanica molto odiata, non tanto perché è forte in sé, ma perché tediosa per il resto del party, sono le meccaniche Storm. Meccaniche che cosa fanno tendenzialmente? In un turno si cercherà di accumulare molto mana, molte carte per fare un effetto che ci permetta di colpire tutti gli avversari a suono di danni o generando tantissimi token, le meccaniche sono diverse per arrivare al risultato di chiusura, ma fondamentalmente quello che si andrà a fare è giocare tanto in un turno, aspettare, accumulare risorse e poi concatenare una serie di eventi per giocare, a volte anche per tanti minuti. E gli avversari che fanno? Ecco, la sensazione che hanno gli avversari di fronte a questo tipo di meccaniche e di giocate è di noia mortale, perché a meno di counter o di qualche cosa che permetta di stoppare questo tipo di interazioni concatenate, quindi di giochiamo dei riti, giochiamo delle carte per pescare, giochiamo carte che ci fanno rigiocare le carte dal cimitero e così via, porta a far giocare uno giocatore come fosse in solitaria. Lui gioca, concatena cose, accumula maana, fa tante belle cose e noi stiamo a guardare. E questo per il gruppo è tendenzialmente, soprattutto per gruppi casual che vogliono giocare, esprimere il proprio gioco, magari con giocate anche non performanti al massimo, ma divertenti, a spegnere il proprio entusiasmo, perché si ritrovano qualcuno che sta giocando per conto suo, che forse vincerà, perché tra l'altro Storm punta a vincere, certo, ma non sempre riesce a incastrare le proprie catene al 100%. Quindi rischiamo di stare a guardare l'avversario per 5, 10, 15 minuti che gioca, accumula, fa e poi non chiude. E questo è doppiamente frustrante, perché è frustrante per il giocatore che ha tentato di fare la combinazione di effetti Storm e tutti gli altri che lo sono stati a guardare così con le mani in mano per un ton di tempo. Ecco, questo in particolare in tavoli casual è dannoso, non è gradito e quindi gli avversari se vedranno che voi avete carte come Birghi o Riel che sono smaccatamente orientati a fare questo tipo di approcci, a fornire strumenti per fare mazze a base Storm, chiaramente vi darà addosso, perché non lo sopporta, perché non gli piace, perché vuole giocare. Il suo obiettivo non è tanto vincere per vincere, ma vincere in modo divertente. Quindi spegnerete le ambizioni degli altri giocatori semplicemente presentarne a tavolo con un mazzo del genere. E quindi, dagli al giocatore di Storm, tanto per essere chiaro. Ci sono poi una serie di comandanti che sono smaccatamente orientati a fare non tanto meccanica Storm, ma turni extra. Alcune varianti dei comandanti che vi mostro, Kalamax e Narsen e Light and Master, puntano specificatamente a fare molti turni extra o a sfruttare al massimo magie che fanno questo tipo particolare di effetti. Sono comandanti odiati moltissimo per lo stesso motivo che sono odiati quelli Storm, perché portano il giocatore che ha questi comandanti a giocare da solo, a fare un turno extra, rifare una combat, riattivare di nuovo gli effetti del comandante di turno, ricominciare da capo e andare avanti per turni e turni. Anche qui, a volte vincendo, a volte no, perché il turno extra non mi garantisce la vittoria, mi garantisce un'ulteriore opzione per continuare a accumulare mana, risorse pescate, giocate. Quindi di nuovo siamo di fronte a comandanti che appena visti dai giocatori vengono subito puniti. Perché? Perché propongono di nuovo che un giocatore, l'arci nemico in questo caso, giochi da solo, spenga il gioco degli altri semplicemente restando nella retrovia e poi decidendosi di giocare al momento giusto il suo megaturno, i suoi n turni concatenati. Quindi anche in questo caso ci troviamo di fronte alla noia, che ovviamente i giocatori che saranno nel party vogliono combattere attaccandovi subito. Parlando di noia e di altri esempi di comandanti odiati e di meccaniche non sopportate dai party, parliamo di quella forse più evidente in assoluto, che è quella stax. Le meccaniche stax racchiudono, ne ho presentate due tipologie abbastanza diverse, meccaniche che impediscono il gioco agli avversari in modo molto marcato o diminuendo fortemente la loro azione. Lavinia è l'esempio classico, non si permettono di fare giocate con costi alternativi, si frena con il resto del mazzo tutte le giocate a base magie o a base temperature, con una serie di pali, e si inchioda tutta la partita, rallentandola enormemente. Effetto simile a quello Storm, ma per tutto il party, quindi molto tedioso. Per conto Tergrid propone un gioco di sacrificio costante per tutti. Ricorda un po' gli effetti di Discard che abbiamo visto in Tiny Bones, ma qui ancora peggio. Qui vado a punire tutti gli effetti di sacrificio di tutti gli opponenti, quindi le mie carte faranno sacrificare pezzi, gli avversari che sacrificano pezzi perderanno i loro pezzi, perché li acquisirò io, e quindi Tergrid diventa uno sparacchio enorme ed è uno tra l'altro dei comandanti più odiati nell'ultimo periodo, una carta relativamente recente, proprio perché frena enormemente il gioco, lo rallenta, fin tanto che noi continuiamo a cumulare risorse dal sacrificio che imponiamo agli altri e da tutte le carte nere che dicono tutti sacrificano qualcosa, io perderò quasi nulla gli avversari continueranno a regalarmi materiale. Questo tipo di approcci è chiaramente odiato perché sto frenando il gioco, perché sto impedendo che gli avversari sviluppino il proprio e quindi di nuovo è un qualcosa che in un tavolo relativamente casual, ma anche dal power level medio alto, tendenzialmente non piace. Se stiamo parlando di tavoli CDH, di tavoli competitivi, posso anche accettare questo tipo di approcci, probabilmente Tergrid non è neanche adatto a questo tipo di tavoli e può essere una strategia, per carità. Il problema è che in quel contesto siamo di fronte a quattro giocatori agguerriti che vogliono vincere e si può quindi mettere in conto che qualcuno freni il resto del gruppo per vincere a sua volta. Nel tavolo caso si vuol divertire, presentarsi con un comandante di questo tipo vuol dire spegnere il divertimento e quindi giocare questi comandanti non è sicuramente un approccio appetibile e vi trasformerà di nuovo nell'arci nemico di turno. Ci sono poi dei comandanti che non hanno una strategia marcatamente punitiva, ma presentano delle meccaniche molto forti, molto evidenti e assolutamente pesanti per il resto del gruppo. Qui ci sono tre esempi molto diversi tra loro, per farvi capire cosa intendo. Atraxa è la versione iniziale, quella storica di questo generale, propone proliferare come meccanica, che è una meccanica che può avere vari utilizzi, ma a parte quella Infet che è un'altra meccanica abbastanza odiata, ma si vede piuttosto poco nei tavoli Commander, perché appunto è una meccanica tipicamente a base quasi aggro e quindi è difficile che tutti e tre giocatori e avversari vengono puniti da questa meccanica velocemente. Atraxa propone proliferare che porta con sé la meccanica Planeswalker, una meccanica Planeswalker che è notoriamente molto forte, notoriamente noiosa perché di nuovo avrò tanti permanenti che cominciano ad attivare effetti tra di loro, a farne ultimate, fare molto value con diversi pezzi in campo e quindi è una meccanica odiata, molto marcata e poco sopportata dagli avversari perché faticano a contrastarla e quindi Atraxa ha il bollino nero sopra, per cui se io gioco Atraxa nella zona di comando sicuramente gli avversari cercheranno di punirmi perché sanno già, ipotizzano e non si fidano magari che io dica no ma guardate sto giocando una meccanica segnalini più 1 più 1 che voi giochiate invece è magari un comandante con delle meccaniche rivolte ai Planeswalker e che quindi, classico Super Friends per intenderci, per usare una terminologia che identifica questo tipo di archetipi, e quindi vi odierà all'istante e cercherà di attaccarvi e di punirvi e di farvi perdere. Cities invece si basa sugli incantesimi e propone di nuovo un effetto simile allo Storm come logica perché porta il giocatore che gioca a cities a pescare, giocare incantesimi, pescare, giocare incantesimi, pescare, fare tantissimo value, un board enorme, costruire una serie magari di lock che bloccano gli avversari nelle loro giocate o proporre un board così vasto che diventa effettivamente imponente e spaventa, terrorizzante per gli avversari, spaventando tutti quanti. E' chiaro che questa cosa porterà i giocatori che vedono cities nella zona di comando a attaccarvi, a colpirvi, anche perché voi guadagnate punti vita, quindi diventerete anche un avversario correaceo da battere. Quindi sì, Cities è un comandante molto forte, ma è un comandante molto noioso per gli altri. Analogamente, ma con logiche diverse, è Yuriko. Yuriko, peraltro, è stato uno dei primi comandanti che io ho giocato e ne ho subito capito sia il potenziale che l'odio che riscuoteva sugli avversari. Primo perché con questa meccanica ninjitsu non paga la tassa di comando. Quindi continuerò a riproporlo e continuo a riproporre una meccanica che fa danni a tutti. E' vero in modo randomico e non sempre efficace, però è pauroso perché io posso girare 10 danni, 15 danni a tutti a seconda delle carte che inserisco all'interno del mio mazzo senza colpo ferire, semplicemente perché questo ninja o un altro ninja con lei in campo ha attaccato. Cosa peraltro relativamente facile proprio perché il mazzo è settato per fare questo mestiere. Proporre creature evasive, piccole, che riescono in qualche modo a intrufolarsi tra le linee nemiche, fare questo effetto di commander ninjitsu dalla mia zona di comando, anche se il comandante è stato ucciso 5 volte, e continuare a riproporre questa tediosa e pericolosa meccanica di danno a tutti. Quindi che succede? Yuriko non entra mai in campo, Yuriko viene disintegrata, counterata, distrutta appena possibile, e tu non riesci più a giocare. Quindi non hai neanche la certezza di vincere in questo caso, ma proponi un gioco che spaventa. E qui, diciamo, rientriamo nella logica di tutti quei comandanti che possono anche non avere un power level elevato, ma spaventano, preoccupano il resto del party, tanto che tutti si alleeranno contro di voi, trasformandovi appunto nell'arci nemico. C'è però un'altra categoria di situazioni, qui il discorso è un po' più complesso, ma mi sento di farlo perché l'ho anche vissuto in prima persona, è quello di sbagliare il power level del tavolo, oppure, banalmente, prendere il nostro bellissimo mazzo competitivo, sto prendendo da competitività di IDH alcuni esempi spinto all'ennesima potenza e propormi un tavolo casual, che invece gioco un power level molto normale, che punta un tipo di meccaniche decisamente più tranquille, con la voglia di provare delle meccaniche strane o semplicemente qualcosa di flavor, e voi arrivate con un Kodama spinto all'ennesima potenza che chiude di terzo turno. Ho fatto un esempio perché ho trovato Kodama, ma potrebbe essere chiunque, Malcolm Sakashima, qualunque combinazione non ha importanza, il problema è il power level in questo caso. Se la gente si accorge, si rende conto che voi state arrivando con un comandante troppo spinto o una combinazione che punta a chiudere troppo velocemente, ovviamente vi odierà. Certo non vi riuscirà a sconfiggere, ma diventerete l'arci nemico e nessuno vorrà più giocare con voi. Quindi l'effetto casual di gruppo, di giocare a commander, svanirà per voi perché verrete bollati per quello che porta il mazzo sbagliato al tavolo. Qui il discorso è più filosofico di approccio al gioco, di quello che dovrebbe essere la, come posso dire, il desiderio di approcciarsi a un tipo di gioco casual, più che vincere a tutti i costi. È chiaro che qui si fa un discorso spesso non compreso, soprattutto in Italia, che punta molto al competitivo e punta molto ad arrivare a vincere e a essere vincente a tutti i costi, anche dove la vittoria in sé non è l'obiettivo ultimo del gioco. È chiaro che queste casistiche si possono gestire solo in un modo, col buon senso. Io se so che arrivo a un power level medio, medio-basso, non mi presento un mazzo simile e non cerco a tutti i costi di vincere in fretta, perché gli altri ti guardano e dicono, e quindi cosa hai risolto? Ci siamo divertiti? Noi sicuramente no. Tu ti sei divertito a vincere da solo? Forse sì, ma a noi non interessa giocare con te. Non giochiamo più con te. Quindi se vogliamo fare un tipo di gioco sano e vogliamo approcciare all'EDH in maniera casual, ricordo, perché il competitive esiste, è giusto che ci sia, ma tutti devono essere allo stesso livello e devono giocare al massimo nel loro potenziale, il casual è un'altra cosa. Quindi per non diventare l'arci nemico, indipendentemente dalle meccaniche che scegliete, qui contro il power level, prestate attenzione. Cosa vi posso consigliare per evitare questo tipo di bollatura? Perché poi quando arriverete al tavolo a terza, quarta, quinta, sesta volta potrete presentare al comandante più neutro e tranquillo del mondo, sarete l'arci nemico. Perderete al quarto, quinto turno perché tutti vi andranno addosso, o magari al decimo non ha importanza, ma nessuno vi lascerà giocare come vorrete. Non potrete esprimere il vostro gioco perché siete il cattivo di turno, ormai siete bollati, avete questa nomea di calimero e quindi non ne uscite più. Per evitarlo, soprattutto nei nuovi gruppi quando cercate di approcciarvi e volete giocare comunque casual, un consiglio che vi posso dare è di scegliere comandanti assolutamente sconosciuti, neutri, poco noti, strani, che vi possono anche permettere di fare delle giocate e avere delle meccaniche forti, è ben inteso. Io vi faccio vedere tre esempi, ce ne sono tantissimi chiaramente, potreste anche addirittura scegliere dei comandanti che hanno le meccaniche odiose che avete visto poc'anzi. Forse quella storm è un po' più difficile da nascondere, anche perché dopo che vi vedono giocare una volta questo tipo di meccanica vi odiano comunque, gliela fate franco una volta, ma non ne riuscite, ma ci sono una serie di comandanti che sono forti, molto forti in alcuni casi, ma che non presentano, diciamo così, meccaniche così marcatamente odiate da portarvi a diventare l'arci nemico appena mettete il vostro comandante sul tavolo da gioco. Evelyn è un esempio classico, è un mazzo gris che può essere anche spinto molto ed essere molto performante, perché permette di giocare dall'esilio, ha tutta una serie di meccaniche che permettono anche di fare delle combo, ma se vedete sembra un comandante che permette di giocare i vampiri, cioè io potrei anche giocarlo tribale vampiri da questo punto di vista, quindi non siete subito identificati come il cattivo di turno. Jorna è un altro comandante molto forte, permette di giocare tutti i permanenti nevi di stapparli, quindi fa molto value col mana, ha una color pie, quella sul tai molto forte, che permette anche meccaniche molto spinte, ma lui è semplicemente un comandante che permette di stappare le terre. Sì, da value, ma non è una cosa così smaccatamente riconoscibile come strategia. Riusciamo in qualche modo a giocarlo, a fare value, a poter costruire il nostro gioco e anche a vincere, perché, ripeto, questo comandante sentato correttamente ci permette anche di fare ottimi mazzi, chiaramente non capiranno gli avversari cosa stiamo veramente giocando nel nostro mazzo, qual è il resto del mazzo. Solo vedendo la partita andare avanti capiranno che noi sfrutteremo al massimo il fatto che lui stappi le terre e ci dia value col mana in dotazione. Ecco che qui cambia un po' quindi la percezione che hanno gli avversari. Pedalgriff è esattamente questo tipo di concetto, questo addirittura è estremizzato. Pedalgriff da molti è riconosciuto come un mazzo group hug, cioè un mazzo all'opposto dell'Arcenemi, un mazzo che aiuta gli altri, che fa politica. In realtà può essere costruito nelle maniere più disparate ha anche stacks, ha anche con chiusure molto brutali, assolutamente in modo aggressivo, ha diverse linee di vittoria, lo tratteremo come comandante nell'All But Good, una nostra rubrica dedicata ai comandanti vecchi, proprio perché è un comandante poco noto, molto forte, se sei stato al meglio, è assolutamente gestibile e accettabile da un tavolo casual, che permette anche di fare una cosa che spesso i giocatori italiani dimenticano nel commander, soprattutto casual, che è la politica. Ok, io ti aiuto ma tu cosa fai in cambio a me? Io ti do una pedina, ma tu cosa fai per me? Io ti do due punti vita e ti salvo, cosa fai per me? Ecco, cose di questo genere che aiutano alla coesione del tavolo, ma allo stesso tempo permettono a noi di sviluppare le nostre strategie. Quindi vinceremo? Certo, possiamo anche vincere questo comandante, anche regalando delle cose, se è stato correttamente lo possiamo fare, ma non verremo odiati, perché sì, vinciamo, perché vincere è una roba naturale, insida di questo gioco, non è che giochiamo per perdere, ma non saremmo odiati, non saremmo riconosciuti come il nemico di turno, ed è questo che ci permetterà di costruire il nostro game plan e di quindi avere chance per poter giocare serenamente, divertendoci. Altra cosa che vi consiglio, cercate di avere più mazzi da power level differente. Vi approcciate un tavolo nuovo o vi approcciate a un gruppo di giocatori che magari vuole fare una partita più rilassata, giocare a power level più basso, giocare dei mazzi a tema, ecco. Anche con investimenti contenuti, abbiamo una rubrica apposta peraltro per i mazzi budget, ma ripeto, potete fare le scelte che volete da questo punto di vista. Vi consiglio però di portare più mazzi dietro di voi, avere due o tre scelte almeno, poi col tempo magari ne accumulerete di più, ma tendenzialmente avere power level di vario livello. Perché questo? Perché potete affrontare tavoli diversi, serenamente avere il vostro mazzo competitivo da 100 carte lì tenuto nel caso vogliate giocare con un gruppo che ha questo tipo di power level, ma allo stesso tempo avere altre alternative adattabili al tavolo del momento che possono funzionare benissimo per essere di nuovo coerente con quello che è il tavolo e la possibilità di giocare tutti insieme. Quindi anche in questo caso abbiamo la possibilità di approcciarci correttamente e non essere odiati da tutti. Ultima considerazione che vi porto, provate a sperimentare, provate a guardarvi intorno nella marea sconfinata di leggendari che ci sono, scegliendo comandanti semi sconosciuti, che però sono comunque in grado di fornire altissimo potenziale, grandi capacità offensive o addirittura chiusura dal nulla, proponendosi però come diricomandanti assolutamente divertenti, neutri o addirittura amichevoli. Io ad esempio ho un mazzo Kami che chiaramente dice ogni giocatore pesca una carta addizionale, una cosa bellissima, agevolo tutti a pescare. Peccato che questo mazzo nasce con l'idea di sfruttare questo discorso e ha tutta una serie di meccaniche, anche cattive, per far trasformare questo Kami da innocente spirito in una roba veramente pesante per tutti. Ma io non appaio immediatamente come cattivo. Adesso magari che avete visto questo video, vi vedrete con questo mazzo e mi direte lo stesso, ma diciamo era un esempio per farvi capire come un altro comandante che cito ad esempio Toggo, che sembra assolutamente un mazzo meme, perché con questa cosa delle terre, che creo questi qui, equipaggiamo questi artefatti pietra che possono fare due danni, insomma, sono abbastanza divertenti come logica. In realtà costruire un mazzo attorno a tutti questi artefatti che vado a produrre è assolutamente gratificante e il fatto che abbia pattern permette di costruire mazzi dal meme all'assolutamente performante. Però anche in questo caso aggiungo una nota goliardica, divertente al mio deck, mi rendo simpatico in qualche modo, ma al mio power level la mia capacità di vincere resta immutata e soprattutto non attiro su di me l'ire di tutto il resto del party, perché questo è il problema di fondo che abbiamo cercato di raccontare in questa puntata. Spero che questo discorso filosofico, diciamo così, più generalista di quello che deve essere l'approccio sano all'EDH, sia casual che no, vi sia gradito? Magari scrivetemi nei commenti se volete qualche altra puntata che vada un po' a ragionare su quelle che sono un po' le regole di contorno di questo tipo di gioco multiplayer che quindi va al di là della semplice costruzione di un mazzo e raggiungimento della vittoria a tutti i costi, che va un po' oltre questo discorso e quindi magari portarvi altri contenuti di questo tipo che raccontano quello che è il contorno, l'aspetto sociale, dinamico che c'è all'interno di un modo di giocare Magic, ovviamente diverso dal solito. Per questa puntata direi che è tutto e ci si rivede presto qui su Underground Sea. Alla prossima!